allo a tutti raga benvenuti nel mio nuovo video sono i vostri le colli all'ora video di oggi siamo al quinto episodio di nipoti moz potente siamo alla sfida la sfida al numero 14 della blacklist ok la pulizia ti aspetto eccolo qua 3, 2, 1, GO! e parte della sfida numero 14 della blacklist e vai con noi ho superato sono addosso a un po' troppe cose però lo devo recuperare recuperare nel senso che l'ho distanziato mamma mia ma va bene dai va bene l'ho distanziato un bel po' quindi qua sono due gare a vincere come numero 15 uguale ecco il NOS si vola 30 km allora si vola cioè quelli veramente vogliono fare gli spacconi ma alla fine sono loro che lo prendono anche questo ma ok va bene dai si si sta ormai sono primo dai cioè sto guardando la mappa sto guardando la mappa e mi sta raggiungendo cioè vedendo e scherzando mi sta raggiungendo e mi sta dietro mi sta dietro no ma quanto manca è dietro eh volevi cioè questa è mi ha fatto soffrire e poi è la prima andata è la prima andata c 2 1 go si parte per la seconda ultima gara e già quello parte di bene perché è il primo è messo il NOS è messo la speed NOS quello è già avanti quello è già avanti lo raggiungendo devo raggiungerlo non ce l'ho fatto qualcosa di NOS siamo a pari pari paris questa è una gara che mi farà sudare ok ho superato sono primo vabbè via 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 devo distanziarlo non è buono non mi basta quello non mi basta 70 80 ancora manca poco ok non mi raggiungo di nuovo come prima no dai dai vediamo dai che manca poco ho vinto ho vinto ho vinto 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 yes ho vinto ciao a casa due selezione ok 2 di 6 come prima 1 io ho rubato la macchina anche a lui e 2 molte per sequestro bello ok blacklist numero 13 victor baskets lo facciamo che dite lo facciamo vic questo è vic raga numero 13 victor basket che però che macchina raga che facciamo dopo aver battuto gli rubiamo la macchina anche a lui ne ho già due non ho più una mia ascoltiamo che dici sei dentro voglio farti vedere una cosa ti ho procurato un accesso al database dei polizioni stai fornendo un po' di materiale all'archivio della polizia e più diventa alta la tua priorità più servono la tua taglia e la tua celibretà quindi tieni sotto controllo il tuo fascicolo quanto mi stai sul culo raggio hai avuto fortuna ma per rimanere sulla blacklist la fortuna ti basterà e farei bene a guardarti le spalle da fuori pericchieri beh non si sa mai cosa può succedere vuoi fare un lavoretto anche su quest'auto? mia io non so che gioco stai giocando ma lo scoprirò non puoi stare al fianco dei perdenti per sempre e quando lui si bruciverà niente più poli di gratis controlla quel fascicolo io devo andare ci sentiamo più tardi quando mi stai sul culo da una dieci Razor dieci all'ora sono impressionato Daz ti ha sottovalutato e ne ha pagato le conseguenze vedi di non fare lo stesso errore ok ci sentiamo più tardi non vedo l'ora di arrivare veramente non vedo l'ora di arrivare faccia a faccia con te Razor e di farti il culo stelle strisce come non si fosse un domani fatti nero ti faccio nero ti faccio Razor aspettami te lo giuro aspettami ma hai rubato la macchina si salviamo ok cambiamo la macchina intendo che la cambio vi saluto raga se vi è piaciuto questo video lasciate like mi piace link è in descrizione ai miei social iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo episodio ciao 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 ciao